Paolo Cilona, ricordiamo questa iniziativa di giorno 30 che vuole ricordare appunto la nascita di Agrigento dei suoi 2600 anni? 2.605 anni perché è stata costruita grazie a due che venivano da Gela e hanno realizzato il sogno poi degli Agrigentini perché hanno trovato una località stupenda circondata da due fiumi e poi una collina e una bellissima valle con in fondo il mare. Quindi gli Agrigentini hanno saputo scegliere il sito. Noi sabato alle ore 17 a Palacongressi ricorderemo l'evento attraverso i personaggi che la resero forte, opulente e grande. Parlerò di Terone, di Damareta, di Filino, di Calligratite, di Acrone, di Metello, di Feage, quindi tutti i personaggi che sono stati i protagonisti della grande stagione greca. Poi ci saranno nel corso della serata gli interventi da parte di molti professionisti agrigentini che interpreteranno la parte degli agrigentini. E' proprio questa la cosa curiosa che appunto alcuni agrigentini interpreteranno la parte di queste personalità antiche e famose. Senz'altro sono professionisti, sono giovani come l'avvocato Michelangelo Taibi che interpreta la parte di Embedocle e poi c'è il professore Franco Cilona che farà Filino e poi Damareta, l'archeologa Viviana Capparelli e tanti altri per quanto attiene ai personaggi dell'antica agrigast. Mentre i viaggiatori che dal Settecento hanno soggiornato nella nostra città, parliamo di Ghete, Guy Monbassin, Alessandro Dumas, Owell e di tanti altri che hanno lasciato tracce indelebili del loro soggiorno nella città più bella e mortale, come disse Pindaro. Ad esempio Pindaro sarà rappresentato dal sindacalista Amaglio Cardella, il quale illustrerà il suo percorso di grande poeta dell'antica Grecia.